La regione Sicilia è quest'anno la prima ad aprire il periodo dei saldi il 2 gennaio, mentre nella stragrande maggioranza delle altre regioni i saldi partiranno il 5 gennaio. Ma tra messaggi, telefonate ed email ai clienti, le vendite a saldo e presaldi con sconti anche fino al 40%, i saldi sono iniziati già da tempo. La normativa regionale li ha praticamente liberalizzati, basta solo non pubblicizzarli prima dell'avvio ufficiale. Fare stime su quante famiglie faranno acquisti durante la stagione ufficiale dei saldi e su quanto spenderanno, quindi, è molto difficile. La proiezione è che circa il 48% delle famiglie siciliane, cioè circa 961.000, faccia acquisti a partire dal 2 gennaio fino alla fine dei saldi. La spesa media per famiglia sarà di circa 208 euro, con un conseguente giro di affari ipotizzato che sfiora i 200 milioni di euro. Ma si tratta di numeri che potrebbero non trovare piena conferma nei fatti. Il problema è che con il proliferare delle offerte e degli sconti è sempre più difficile isolare i commercianti e i fanni furbi. Feder Consumatori Sicilia per questo ha aggiornato il suo decalogo di consigli per affrontare i saldi invernali senza rischiare di essere raggirati. La raccomandazione più importante è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi e in ogni caso orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente. Difidare dalle vetrine tapezzate dai manifesti che non consentono di vedere la merce o che reclamizzano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%. I saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio, quella a saldo però deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno. Occhio al cartellino del prezzo su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente di modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Difidare dall'acquisto di capi di abbigliamento che non si possono provare. Da giugno 2014 inoltre i commercianti hanno l'obbligo di accettare il pagamento con carte di credito Bancomat tramite posse per cifre superiori a 30 euro. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto.